Un piano diabolico per approfittarsi di un disabile e prosciugare tutto il suo patrimonio, 60.000 euro che gli avevano lasciato i genitori dopo una vita di lavoro. A raggirare un 45enne di Castelfranco Veneto, una banda di 5 persone, tutta del paese, guidata da una 23enne. Giovane, ma non nuova a questo tipo di attività, la ragazza aveva descato la vittima, iniziando con lui una relazione sessuale. Poi l'aveva convinto di essere incinta e cominciando a chiedere sempre più soldi, dietro alla minaccia di rivelare tutto alla moglie. Decine e decine di passaggi di denaro, giustificato con la fasulla necessità di visite mediche, specialistiche e distorto dietro minaccia. A rendere più credibile la recita, i quattro complici della ragazza, la sorella, un attore che interpretava il padre e due pregiudicati, lontani parenti della vittima. La metodologia con cui hanno scelto la loro vittima indica anche da parte degli autori di questi raggiri un certo tipo di professionalità a delinquere in questa fattispecie di reati. Crea particolare fastidio il fatto che si siano rivolti nei confronti di una persona in stato di grave indigenza, di grave debolezza e molto sola. Per 16 mesi, dal gennaio 2015 e dall'aprile di quest'anno, la banda ha continuato a spillare denaro al 45enne. Se non erano soldi, erano gioielli, computer, braccialetti. Tutto quello che possedeva è stato prima accaparrato e poi dilapidato dai cinque delinquenti. All'ultima richiesta di 10.000 euro per un falso aborto in una clinica del Meridione, la vittima si è accorta che il suo conto era vuoto e ha chiamato i carabinieri. I cinque sono stati denunciati per estorsione, truffa e circonvenzione di incapace in concorso a inchiodarli alle loro responsabilità decine di sms e messaggi vocali, oltre ad alcuni pagherò sequestrati dai militari.